e riviusi a smr salve a tutti ragazzi come state? spero tutto bene oggi andremo a mangiare super mac tonic e 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 mcdonald 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 bene ragazzi andiamo subito a mangiare che diabo che ci sta qua dentro? non si apre non si apre oddio c'è anche Zeus qua Zeus vai via non 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 via ecco qua ragazzi wow wow ah ragazzi c'è 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 il gatto ah ragazzi no fermo Zeus stai fermo è una piadina del reddonner ragazzi adesso lo mangeremo insieme ma c'è anche il formaggio che buono buon appetito ragazzi buon appetito ragazzi è ass ha Sì. ci sta anche il gatto che sto mangiando ragazzi che mi fa compagnia sempre molto buono ragazzi un po' di scemo Sì... A presto! E' un po' più bello. Sì, sì, sì. e il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info 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 Sì, sì, sì. ma manchare lì patatina patate 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 scusate, avevo un rottino da fare c'è sta stacca la caola ragazzi c'è un po' 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 Minecraft . . Sì. ho 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 Buon appetito! A presto, a presto! Sì! C'è un po' molto buono. Sì! Sì! Sì, non è vero. c'è un po' di sottotitoli ecco C'è un po' molto buono. è una frase purtroppo, le fischiano sempre, va bene lo stesso ragazzi, abbiamo le ultime patate da finire ragazzi è un po' di più è un po' di più A presto. Non c'è nessuno, non c'è nessuno, non c'è nessuno. Non c'è nessuno, non c'è nessuno. Non c'è nessuno, non c'è nessuno. Vi diamo appuntamento al nostro prossimo video. Sì, abbracciami, abbracciami, abbracciami. Sì, 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 sì. Ciao tutti ragazzi, ciao. Ciao, 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 ciao.